pallino e mimì si chiamò prima pallino perché quando nacque pareva una palla di tutta la figliata che fu di sé si salvò solo lui grazie alle preghiere insistenti e alla tenera protezione dei ragazzi babbo colombo come non poteva andare a caccia che era stata la sua passione non voleva più neanche cani per casa e tutti tutti i morti li voleva quei cuccioli là così pure fosse morta la vespina loro madre che gli ricordava le belle cacciate degli altri anni quando egli non soffriva ancora dei maledetti reumi dell'artritide che eccolo là lo avevano torto come un uncino a chianciano già il vento ci dava anche nei mesi caldi certe ribecciate che investivano scoteva le case da schiantarsele e portarsele via figurarsi d'inverno e dunque tutti in cucina stretti accovacciati da mane a sera nel canto del fuoco sotto la cappa senza cacciar fuori la punta del naso neanche per andare a messa la domenica giusto la colleggiata era lì di rimpetto a due passi quasi quasi la messa si poteva vederla dai vetri della finestra di cucina nelle altre camere della casa non ci si andava se non per ficcarsi a letto la sera di buon'ora ma babbo colombo si faceva anche il giorno una capatina di tanto in tanto curvo con le gambe fasciate spasimando ogni passo per andare a veder dal balcone della sala da pranzo tutta la val di chiana che si scopriva di là e il suo bel podere di caggiolo e vespina a farglielo apposta gravida così che poteva appena spiccare le piote da terra lo seguiva lemme lemme per crescere il rimpianto della campagna lontana del dispetto di vedersi ridotto in quello stato maledetta e ora gli faceva ai figliuoli per giunta ma glieli avrebbe accomodati lui senza farli penare ben inteso li avrebbe presi per la coda e là avrebbe loro sbatacchiata la testa in una pietra i ragazzi la delmina ezio gino e la norina nel vederli far l'atto gridavano no babbo piccini sicché quando i cuccioli vennero alla luce ne vollero salvare almeno uno quello che sembra loro il più carino sottraendolo e nascondendolo ottenuta la grazia andarono per veder pallino e si signori gli mancava la coda parve loro un tradimento e si guardarono tutte quattro negli occhi madonna senza coda e come si fa appiccicagliere una finta non si poteva né fare che il babbo non se ne accorgesse ma ormai la grazia era concessa e pallino fu tenuto in casa per quanto già la tenerezza dei padroncini a causa di quel ridicolo difetto fosse venuta a mancare per giunta anche si fece di giorno in giorno più brutto ma non ne sapeva nulla lui bestiolino senza coda era nato e pareva ne facesse meno volentieri pareva anzi non sospettasse minimamente che gli mancava qualche cosa e voleva ruzzare ora farà pena un bimbo nato male zoppetto gobbino a vederlo ridere scherzare ignaro della sua disgrazia ma una bestiola non ne fa e se rizza e disturba non si ha sofferenza per lei e si dà un calcio là e addio pallino distratto dai suoi giochi furibondi con un gomitolo o con qualche pantofola da una pedata che lo mandava a ruzzolare da un capo all'altro della cucina si levava lesto lesto sulle due zampette davanti le orecchie dritte la testa da un lato e stava un pezzo a guardare non guaiva ne protestava pareva che a poco a poco si capacitasse che i cani debbano essere trattati così che questa fosse una condizione inerente alla sua esistenza canina e che non ci fosse perciò da aversene male gli ci vollero però circa tre mesi per capire ben bene che al padrone non piaceva che le pantofole gli fossero rosicchiate allora imparò anche a cansare le pedate appena babbocolombo alzava il piede lasciava la preda e andava a cacciarsi sotto il letto lì riparato imparò un'altra cosa quanto cioè gli uomini siano cattivi si sentì chiamare amorevolmente invitare a venire fuori col frullo delle dita qua pallino caro caro qua piccino si aspettava carezze si aspettava il perdono ma appena ghermito per la cuticagna botte da levare il pelo ah sì e allora anche lui si buttò alle cattive rubò stracciò il sudiciò arrivò fin anche a morsicare ma si guadagnò questo che fu messo alla porta e siccome nessuno intercedette per lui andò randaggio e mendico per il paese finché non se lo tolse in bottega fanfulla mochi macellaio a cui era morto in quei giorni il cagnolino fanfulla mochi era un bel tipo amava le bestie e gli toccava ammazzarle non poteva soffrire gli uomini e gli toccava servirli e rispettarli avrebbe tenuto in cuor suo dalla parte dei poveri ma da macellaio non poteva perché la carne ai poveri si sa riesce indigesta doveva servire i signori che non avevano voluto averlo dalla loro sicuro perché era nato signore lui almeno per metà lo desumeva dal fatto che uscito a 16 anni da nobile ospizio in cui era stato accolto fin dalla nascita gli erano venuti non sapeva né d'onde né come né perché 6.000 lire residuo ad un rimborso liquidato in contanti lo aveva messo garzone in una macelleria e da che c'era con quella sommetta aveva seguitato a fare il macellaio per conto suo ma il sanguaccio del gran signore se lo sentiva nelle vene torpide nelle piote gottose e un cotalfluido pazzesco gli circolava per il corpo che ora gli dava una noia cupa e amara ora lo spingeva a certi atti per esempio tre anni fa radendosi la barba e vedendosi allo specchio più brutto del solito già invecchiato in fermiccio si era lasciato andare una bella rasoiata alla gola tirata coscienziosamente a regola d'arte condotto mezzo morto all'ospedaletto aveva rassicurato la gente che gli correva dietro spaventata non è niente non è niente un'incicciatina per prima cosa fanfulla mochi ribattezzò pallino impose il nome di bistecchino poi lo portò alla finestra e gli disse vedi la bistecchino il mio bel monte ameata grosse le scarpe ma tu sapessi che cervelli fini ci si fa bastardi ma fini se tu vuoi stare con me deve essere un patto che tu diventi un canino saggio e per bene t'adotterò io non temere accurati qua se fossi porco bistecchino mangeresti tu io no il porco crede di mangiare per sé e ingrassa per gli altri non è punto bella sorte del porco ah io direi ma levate per questo ringrazio signori mangiatemi magro pallino a questo punto sternuti due o tre volte come insegno d'approvazione fanfulla ne fu molto contento e seguitò a conversare a lungo con lui ogni giorno e quello ad ascoltare serio serio finché prima una zampa ad annaspare poi levava la testa e spalancava la bocca a uno sbadiglio seguito da un variato mugolio per far intendere al padrone che bastava fosse per la trista esperienza fatta in casa di babbo colombo per via della coda che gli mancava fosse per gli ammaestramenti di fanfulla fatto sta ed è che pallino divenne un cane di carattere un cane che si faceva notare non solamente perché scodato ma anche per il suo particolar modo di condursi tra le bestie sue pari e le superiori era un cane serio che non dava confidenza a nessuno se qualche suo simile gli veniva dietro incontro esso lo puntava raccolto in sé fermo sulle quattro zampe come per dirgli chi ti cerca lasciami andare e questo faceva non certo per paura sì per profondo disprezzo dei cani del suo paese tanto maschi che femmine pareva almeno così perché d'estate quando a chianciano venivano per la cura dell'acqua i villeggianti in gran numero coi loro cagnolini e le loro cagnoline pallino gangiava di punto in bianco diventava socievole chiassone proprio un altro tutto un giorno in giro da questa a quella pensione a lasciare a modo suo alzando un'anca biglietti da visita il benvenuto ai cani forestieri agli ospiti che poi accompagnava dappertutto e al bisogno difendeva con feroce zelo dalle aggressioni dei paesani scodintolare non poteva per salutarli e si dimenava tutto si storcignava si buttava fino anche a terra per invitarli a ruzzare i cagnolini forestieri gliene sapevano grado in città uscivano incatenati e con la museruola qua invece liberi e sciolti perché i padroni erano sicuri di non perderli e di non incorrere in multe quei cagnolini insomma facevano la villeggiatura anche loro e pallino era il loro spasso se qualche giorno tardava essi entrava in quattro si presentavano innanzi alla bottega di fanfulla per reclamarlo bistecchino abbi senno gli diceva fanfulla minacciandolo col dito codesti cani signorini non son per te tu cani di strada sei proletario rinnegato non mi piace che tu faccia così da buffone ai cani dei signori ma pallino non gli dava retta non gli dava retta non gliene poteva dare segnatamente quell'anno perché tra quei cani signorini che venivano a stuzzicarlo in bottega c'era un amor di canina piccola quanto un pugno un batufoletto bianco arruffato che non si sapeva dove avesse le zampe dove le orecchie le tichina di prima forza che mordeva però per davvero qualche volta certi morsichetti chiardevano e lasciavano il segno per più di un giorno ma ma pallino se li pigliava tanto volentieri quella cucina bianca gli guizzava baiando tra i piedi per assaltarlo di qua e di là fermo per farle piacere esso la seguiva con gli occhi in quelle mossette aggraziate poi quasi temendo che si straccasse affiocchisse dal troppo abbaiare dove la cavava quella voce più grossa direi si straiava a terra a pancia all'aria e aspettava che essa dopo essersi sfogata per finta tornasse indietro con la stessa furia e gli saltasse addosso la abbracciava e si lasciava mordere beatamente il muso e le orecchie se n'era proprio innamorato insomma e così rozzo e senza coda povero pallino nei suoi vezzi smorfiosi a quel niente affatto di peli era di una ridicolaggine compassionevole la canina si chiamava mimì e alloggiava con la padrona alla pensione ronchi la padrona era una signorina americana ormai un po' a tempatella da parecchi anni divorante in italia in cerca di un marito dicevano le male lingue perché non lo trovava brutta non era alta di statura svelta e anche formosa bagli occhi dai capelli labbra un po' tumide accese e in tutto il corpo e nel volto un'aria di nobiltà e una certa grazia malinconica e poi miss kelly vestiva con ricca e linda semplicità e portava enormi cappelli ondeggianti di lunghi e tenui veli che le stavano a meraviglia corteggiatori non gliene mancavano ne aveva anzi sempre attorno due o tre alla volta e tutti da prima sapendo l'americana animati dei più sali propositi ma poi poi discorrendo tastando il terreno ecco povera no e si vedeva dal modo come viveva ma ricca miss kelly non era neppure e allora allora perché era americana senza una buona dote tanto valeva sposare una signorina paesana e tutti i corteggiatori si ritiravano puntualmente in buon ordine miss kelly se ne rodeva e sfogava il rodio segreto in furiose carezze alla sua piccola cara fedele mimì ma fossero state carezze soltanto la voleva zitella miss kelly sempre zitella zitella come lei la sua piccola cara fedele mimì oh avrebbe saputo guardarla lei dalle insidie dei maschiacci guai guai se un canino le si accostava subito miss kelly se la toglieva in braccio ed era un busse se mimì che aveva già cinque anni e non sapeva capacitarsi per qual ragione rimanendo zitella la padrona dovesse rimaner zitella anche lei si ribellava busse si agitava le zampette per respingere a terra busse si allungava il collo cacciava il musetto sotto il braccio della sua tiranna per vedere se il canino innamorato la seguisse tuttavia per fortuna questa crudele sorveglianza si faceva a me rigorosa ogni qual volta un nuovo corteggiatore veniva a rinverdir le speranze di miss kelly se mimì avesse potuto ragionare e riflettere alla maggiore o minor libertà di cui godeva avrebbe potuto argomentare di quanta speranza alla nuova avventura desse alimento al cuore inesausto della sua padrona uccellino dal becco sempre aperto ora quell'estate a chianciano mimì era liberissima c'era di fatti alla pensione ronchi un signore un bel uomo d'oltre 40 anni molto bruno precocemente canuto ma coi baffi ancora neri forse un po troppo elegantissimo il quale venuto a chianciano per i 15 giorni della cura vi si tratteneva da oltre un mese e non accennava ancora ad andarsene per quanto all'arrivo avesse dichiarato ad avere a roma urgentissimi affari a cui si era sottratto a stento e non senza grave rischio di che genere fossero questi affari non lo diceva aveva molto viaggiato e mostrava di conoscer bene lombra e parigi ed aver molte aderenze nel mondo giornalistico romano sul registro della pensione si era firmato commendator baciliogori fin dal primo giorno si era messo a parlare in inglese a lungo con miss kelly ora l'una e l'altra ogni mattina uscivano dalla pensione per tempissimo e si ricavano a piedi per il lungo stradale alberato alle terme dell'acqua santa miss kelly non beveva diceva ad essere venuta a chianciano solo per un cambiamento d'aria beveva lui passeggiavano accanto loro due soli per i vialetti del prato in pendio sotto gli alti platani bersagliati dalla maligna curiosità di tutti gli altri bagnanti a lui questa maligna curiosità pareva non dispiacesse punto e se due o tre si fermavano apposta per godere da vicino e con una certa impertinenza di quello spettacolo d'amor peripatetico egli volgeva loro uno sguardo freddo sprezzante ma con un'aria di vanità soddisfatta e la invece abbassava gli occhi per levarli poco dopo in volto a lui a ricevere il compenso di quella tenera istintiva gratitudine che ogni uomo prova per la donna che sacrificando un po del suo pudore dimostra di voler piacere a uno solo sfidando la malignità degli altri mimì li seguiva e spesso provocava le risa di quanti stavano ad osservare la coppia innamorata perché di tratto in tratto addentava di dietro la veste della padrona e gliela tirava gliela scoteva squassando rabbiosamente la testina come se volesse ricamarla a sé arrestarla le scelle assalita dalla stizza strappava la veste dai denti della cagnolina e la mandava a ruzzolar lontano sull'erbetta del prato ma poco dopo mimì ritornava all'assalto non già perché le premesse la buona reputazione della padrona ma perché a girarli per quei praticelli scocesi s'annoiava maledettamente e voleva ritornare in paese dove si sapeva aspettata dal suo pallino tira e tira raggiunse finalmente l'intento mischelle la lasciò con molti avvertimenti alla pensione adducendo in scusa che temeva si stancasse troppo la povera bestiolina difatti mischelle e il commentator gori dopo aver girato per più di un'ora per i viali dell'acqua santa ritornavano sempre a piedi al paese ma per riprender poco dopo a vagabondare o su per la stradina di monte pulciano o giù per quella che conduce alla stazione o salivano al poggio dei cappuccini e non rientravano alla pensione se non all'ora di pranzo e via facendo e la con l'ombrellino rosso riparava anche lui dai raggi del sole e tutti e due andavano mollemente quasi avviluppati in una tenerezza deliziosa assaporando l'ebrietà squisita delle carezze rattenute dei contatti fuggevoli delle mani dei lunghi sguardi appassionati in cui le anime si allacciano si stringono fino a spasimar di volutà intanto i vetturini che non li potevano soffrire perché li vedevano andar sempre a piedi si facevano venir la tosse ogni qual volta li incontravano per la strada e quella tosse faceva ridere i signori che traballavano nelle vetturette sgangherate a chianciano ormai non si parlava d'altro in tutte le pensioni al circolo al caffè in farmacia al gioco del pallone all'arena meschelli e il commendatore gori facevano da mani a sera le spese di quella conversazione chi li aveva incontrati qua e chi là e lui era messo così e lei era messa cosà quelli che finita la cura partivano ragguagliavano i nuovi arrivati e dopo quattro o cinque giorni domandavano ancora da lontano nelle cartoline illustrate notizie della coppia felice tutt'antratto si era ormai ai primi di settembre si sparse per chianciano la notizia che il commentator gori partiva per roma all'improvviso lui solo i commenti furono infiniti e grandissimo lo stupore che era accaduto alcuni dicevano che mischelli aveva saputo che egli era ammogliato e diviso dalla moglie altri che il gori essendo ad un balzo in principio salito ai sette cieli aveva avuto bisogno di tutto quel tempo per calare con garbo a gherbir la preda la quale alla stretta gli sarà scoperta magra e spennata altri poi volevano sostenere che non c'era rottura che mischelli avrebbe raggiunto a roma il fidanzato gli altri infine che il gori sarebbe ritornato a chianciano fra pochi giorni per ripartire quindi con la sposa per firenze ma quelli della pensione ronchi assicuravano che l'avventura era proprio finita tanto vero che mischelli non era scesa quel giorno in sala a desinare e che il gori s'era mostrato a tavola molto turbato tutti questi discorsi si intrecciavano nella piazza del luogo del pallone dove l'intera colonia bagnante e molti del paese erano convenuti per assistere alla partenza del gori quando la vettura uscì dalla porta del paese tutti si fecero alla spalletta della piazza il gori in vettura leggeva tranquillamente il giornale passando sotto la piazza levò gli occhi come per godere lui attore dello spettacolo di tanti spettatori ma all'improvviso dietro la piccola arena che sorge in mezzo alla piazza si levò un furibondo abbaglio di una flotta di cani azzuffati aggrovigliati in una mischia feroce tutti si voltarono a guardare alcuni ritraendosi per paura altri accorrendo coi bastoni levati in mezzo a quel groviglio c'era pallino con la sua mimì pallino e mimì che tra l'invidia e la gelosia terribile dei loro compagni erano riusciti finalmente a celebrare le loro nozze il signore torcevano al viso i uomini sghignazzavano quando preceduta da una frotta di monellacci si precipitò nella piazza mischellei come una furia scapigliata dal vento e dalla corsa col cappello in mano e gli occhi gonfi e rossi di pianto mimì 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 alla vista dell'orribile cempio levò le braccia allibita poi si coprì il volto con le mani volse le spalle e risalì in paese con la stessa furia con la quale era venuta rientrata alla pensione come una bufera s'avventò contro i ronchi contro i camerieri con le dita artigliate quasi volesse sbranarli si contenne a stento strozzata dalla rabbia arrangolata senza poter articolar parola già di anzi aveva perduto la voce strillando nell'accorgersi dopo tanti giorni che mimì non era sorvegliata che mimì non era in casa e non si sapeva dove fosse salì nella sua camera la ferrò ammassò tutte le sue robe nel baule nelle valise ordinò una vettura a due cavalli che la conducesse subito subito alla stazione di chiusi perché non voleva trattenersi più a lungo a chianciano neanche un'ora neanche un minuto sul punto di partire da quegli stessi monellacci che erano corsi con lei in cerca della cagnolina anzanti esultanti per la speranza di una buona mancia ne fu presentata la povera mimì più morta che viva ma mischelli contraffatta dall'ira con un violentissimo scatto la respinse storcendo la fazza mimì all'urto furioso cadde a terra batte il musetto e con acuti guaiiti corse ranca ranca a ficcarsi sotto un divano alto appena tre dita dal suolo mentre la padrona inviperita montava sul legno e gridava al vetturino via i ronchi i camerieri i bagnanti rientrati di corsa alla pensione restarono un pezzo a guardarsi tra loro sbalorditi poi ebbero pietà della povera cagnolina abbandonata ma per quanto la chiamassero e la invitassero coi modi più affettuosi non ci fu verso di farla uscire da quel nascondiglio bisogna che il ronchi aiutato da un cameriere sollevasse e scostasse il divano ma allora mimì si avventò alla porta come una freccia e prese la fuga i monelli le corsero dietro girarono tutto il paese per ogni verso arrivarono fino alla stazione non la poterono rintracciare il ronchi che aveva avuto per lei tante noie scrollò le spalle esclamando vada a farsi benedire dopo cinque o sei giorni verso sera mimì sudicia scarduffata famelica irriconoscibile fu rivista per le vie di chianciano sotto la pioggia lenta che segnava la fine della stagione gli ultimi bagnanti partivano in capo a una settimana il paesello annidato sull'alto colle ventoso avrebbe ripreso il fosco aspetto invernale la cagnetta della signorina disse qualcuno vedendola passare ma nessuno si mosse a prenderla nessuno la chiamò e mimì seguito a vagare sotto la pioggia era già stata alla pensione ronchi ma l'aveva trovata chiusa perché il proprietario si era affrettato di andare in campagna per la vendemmia un tratto intatto si arrestava a guardare con gli occhiettici sposi tra i peli come se non sapesse ancora comprendere come mai nessuno avesse pietà di lei così piccola direi così carezzata prima e curata come mai nessuno la prendesse per riportarla alla padrona che l'aveva perduta alla padrona che si aveva cercato in vano per tanto tempo e cercava ancora aveva fame era stanca tremava di freddo non sapeva più dove andare dove rifugiarsi nei primi giorni qualcuno nel vedersi seguito da lei si chinò a lisciarla a commiserarla ma poi seccato e di trovarsela sempre alle calcagne la cacciò sgarbatamente era gravida pareva quasi impossibile una coserellina così che non pareva nemmeno gravida e la scostavano col piede fanfulla mochi dalla soglia della bottega vedendo la trotterella rvia sperduta un giorno la chiamò le diede da mangiare e siccome la povera bestiola ormai avvezza a vedersi scacciata da tutti se ne stava con la schiena arcuata per paura come in attesa di qualche calcio la lisciò la carezzò per rassicurarla la povera mimì quantunque affamata lasciò di mangiare per leccar la mano del benefattore allora fanfulla chiamò pallino che dormiva nella cuccia sotto il banco cane figlio di cane brutto libertino scodato guarda qua la tua sposa ma ormai mimì non era più una cagnetta signorina era divenuta una cagnetta di strada una delle tante del paese e pallino non la degnò nemmeno di uno sguardo grazie a tutti